L'almanacco della fede Di Padre Livio E adesso cari amici Volevo dedicare gran parte della vostra trasmissione al Santo Curato d'Ars Dico oggi alla festa Mi ha scritto un'ascoltatrice dicendo Io vi do un suggerimento Legga il discorso che ha fatto Vanevento XVI In occasione del 150esimo di Versalbe Il Santo Curato d'Ars Perché è un testo bellissimo Allora io sono vato a vederlo E finalmente è un testo meraviglioso È lungo Lo leggo in parte Quindi avviso già che gran parte di questa nostra trasmissione non tutta La dedico a leggere questo discorso di Vanevento XVI Quando è indetto l'anno sacerdotale In occasione della nascita Del 150esimo anniversario Di la nascita di Giovanni Maria Vianney Conosciuto come il Santo Curato d'Ars E così cari amici Dopo aver messo in luce il grande valore della vocazione La virginità consacrata delle donne Adesso metto in luce questo grande valore della vocazione sacerdotale Per quanto riguarda gli uomini Allora i giovani ovviamente Cari fratelli del sacerdozio È diretto ai sacerdoti Ma credo che ne abbiamo bisogno anche noi Cioè voi Perché sia sempre alta la stiva Che dovete avere verso i pastori della Chiesa Nella prossima sorennità del Sacratissimo Cuore di Gesù Venedì 19 giugno 2009 Giornata tradizionalmente dedicata alla preghiera Per la santificazione del clero Ho pensato di indire ufficialmente un anno sacerdotale In occasione del 150esimo anniversario del Dies Natalis Cioè del giorno natale di Giovanni Maria Vianney Il santo padrono di tutti i paroci del mondo Tale anno Che vuole contribuire a promuovere l'impegno di intero rinnovamento di tutti i sacerdoti Per una loro più forte e incisiva testimonianza evangelica nel mondo d'oggi Si concluderà nella stessa solennità nel 2010 Il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù Solleva a dire il santo curato d'Ars Questa toccante espressione ci permette anzitutto di evocare con tenerezza e riconoscenza L'immenso dono che i sacerdoti costituiscono non solo per la Chiesa ma anche per la stessa umanità Penso a tutti quei presbiteri che offrono ai fedeli cristiani e al mondo intero L'umile e quotidiana proposta delle parole e dei gesti di Cristo Cercando di aderire a lui con i pensieri, la volontà, i sentimenti e lo stile di tutta la propria esistenza Alter Christus Sacerdos alter Christus I sacerdote è un altro Cristo Come non sottolineare le loro fatiche apostoliche Il loro servizio infaticabile è nascosto La loro carità è tendenzialmente universale E che dire della fedeltà coraggiosa di tanti sacerdoti Che pur fra difficoltà e incomprensioni Restano fedeli alla loro vocazione Quella di amici di Cristo Cioè voi siete miei amici e metto Gesù agli apostoli Quindi la vocazione del sacerdote È quella di essere amico di Cristo Da lui particolarmente chiamati, prescelti e inviati Io stesso, dice Per il detto sedicesimo Porto ancora nel cuore il ricordo del mio primo parroco Accanto al quale esercitai il mio ministero di giovani prete Egli mi lasciò l'esempio D'una dedizione senza riserve A proprio servizio pastorale Fino a trovare la morte Nell'atto stesso In cui portava il viatico a un malato grave Torno poi alla mia memoria Gli innumeribili confratelli Che ho incontrato E che continuo a incontrare Anche durante i miei viaggi pastorali Nelle diverse nazioni Generosamente impegnati Nel quotidiano esercizio Del loro ministro sacerdotale Ma l'espressione usata Dal santo curato d'Ars Cioè Il sacerdote è l'amore del cuore di Gesù Evoca anche La trafittura del cuore di Cristo E la corona di spine Che lo avvolge Il pensiero va di conseguenza Alle innumerevoli situazioni Di sofferenza In cui molti sacerdoti Sono coinvolti Sia perché partecipi Dell'esperienza umana Del dolore Nella molteplicità Del suo manifestarsi Sia perché Incompresi Dalli stessi destinatari Del loro ministero Come non ricordare I tanti sacerdoti Offesi Nella loro dignità Impediti Nella loro missione A volte anche Perseguitati Fino alla suprema Testimonianza del sangue Ci sono purtroppo Anche situazioni Abbastanza deplorate In cui la Chiesa stessa In cui è la Chiesa stessa A soffrire Per l'infedeltà Di alcuni suoi ministri È il mondo A trarne allora Motivo di scandalo E di rifiuto Ciò che massimamente Può giovare In tali casi Alla Chiesa Non è tanto La puntigliosa Rivelazione Della debolezza Dei suoi ministri Quanto Una rinnovata E lieta coscienza Della grandezza Del dono di Dio Concretizzato In sprende figure Di generosi pastori Reliciosi Ardenti Di amore per Dio Per le anime Di direttori spirituali Illuminati E pazienti A questo proposito Gli insegnamenti Gli esempi Di San Giovanni Maria Vianney Possono offrire A tutti Un significativo Punto di riferimento Il creato d'Ars Era umilissimo Ma consapevole In quanto prete D'essere un dono Immenso Per la sua gente Un buon pastore Un pastore Secondo il cuore di Dio Dice È più grande È il più grande Tesoro Che il buon Dio Possa accordare Ad una parrocchia È uno dei doni Più preziosi Della misericordia divina Parlava del sacerdozio Come se non riuscisse A capacitarsi Della grandezza Dell'uomo E del compito Affidati Una creatura umana O come il prete Grande Diceva Se egli si comprendesse Morirebbe Cioè Agisci Nella persona Di Cristo Dio gli obbedisce Egli pronuncia Due parole E nostro Signore Scende dal cielo Alla sua voce E si rinchiude In una piccola ostia Dice il curato d'Ars E spiegando In suo fedele L'importanza Dei sacramenti Diceva Tolto il sacramento Dell'ordine Noi Non avremmo Il Signore Se Come Ci ha detto La Madonna Tante volte E ad esempio I vostri pastori Che vi arriva La grazia Di mio figlio Quindi Tolto il sacramento Dell'ordine Avete il curato d'Ars Noi non avremmo Il Signore Chi Lo ha risposto Chi lo ha riposto Là in quel tabernacolo Il sacerdote Chi ha accolto La vostra anima Prima a entrare Nella vita Il sacerdote Chi la lute Per dare La forza Di compri Suo pellegrinaggio Il sacerdote Chi la preparerà A comparire Dinanzi a Dio Lavandola Per l'ultima volta Nel sangue di Cristo Il sacerdote Sempre Il sacerdote E se quest'anima Viene a morire Per il peccato Chi la risusciterà Chi la renderà Chi le renderà La calma E la pace Ancora Il sacerdote Dopo Dio I sacerdote Tutto Diceva il curato D'Ars Lui stesso Non si capirà Bene Che in cielo Queste affermazioni Nate dal cuore Sacerdotale Del santo paroco Possono apparire Eccessive In esse Tuttavia Si svela L'altissima Considerazione In cui Ieri teneva Il sacramento Del sacerdozio Sembrava Sopraffatto Da uno sconfinato Senso Di responsabilità Se comprendessimo Bene Che cos'è un prete Sulla terra Dice Benevento XVI Moriremmo Non di spavento Ma di amore Senza il prete La morte E la passione Di nostro signore Gesù Cristo Non servirebbero A niente E' il prete Che continua L'opera Della redenzione Sulla terra Chi ci vorrebbe Chi Che cosa ci gioverebbe Una casa Pena d'oro Se non ci fosse Nessuno Che ne apre la porta I tesori Della redenzione Se vengono dati Da sacerdote Il prete Possiede la chiave Di tesori celesti E' lui Che apre la porta Egli E' l'economo Del buon Dio L'amministratore Dei suoi beni Lasciate una parrocchia Per vent'anni Senza prete E vi si adoreranno Le bestie Il prete Non è prete Per sé Lo è per voi I concetti Questi Ripresi In un modo Molto diverso Anche più elevato Volevo dire Della stessa Regia della Pace Nei suoi Numerosi messaggi Dedicati ai pastori E' raggiunto Ad Ars Un piccolo Villaggio Di 230 Abitanti Pravvertito dal Vescovo Che avrebbe trovato Una situazione Religiosamente precaria Non c'è molto Amor di Dio In quella parrocchia Voi Ce ne metterete Disse il Vescovo Al curato Era di conseguenza Pienamente consapevole Che doveva andarvi Ad incarnare La presenza di Cristo Testimoniandone La tenerezza salvifica Mio Dio Diceva Accordatemi La conversione Della mia parrocchia Accetto di soffrire Tutto quello Che volete Per tutto il tempo Della mia vita Purcha si converta Fu con questa preghiera Che iniziò La sua missione Alla conversione Della sua parrocchia Il santo curato D'Ars Si dedicò Con tutte le sue energie Ponendo in cima Ad ogni suo pensiero La formazione cristiana Del popolo Lui affidato Cari fratelli Nel sacerdozio Chiediamo al Signore Gesù La grazia Di poter apprendere Anche noi Il metodo pastorale Di San Giovanni Maria Vianney Ciò che per prima cosa Dobbiamo imparare È la sua totale Identificazione Col proprio ministero In Cristo In Gesù Persona e missione Tendono a coincidere Tutta la sua azione Salvifica Era ed è Espressione Del suo io Figliale Che da tutta L'eternità Sta davanti al Padre In atteggiamento Di amore E di sottomissione Alla sua volontà Con umile Ma vera analogia Anche il sacerdote Deve andare A questa Identificazione Cioè come Gesù si è identificato Con la volontà Del Padre Celeste Così noi Sacerdoti Dove identificare Con la volontà Di Gesù Cristo Non si tratta certo Di dimenticare Che l'efficacia Sostanziale Del ministero Resta indipendente Dalla santità Del ministro Ma non si può Neppure trascurare La straordinaria Fruttuosità Generata dall'incontro Fa la santità Oggettiva Del ministero E quella Soggettiva Del ministro Certamente Gli atti Del sacerdote Anche se non è santo Sono validi Ma se lui è santo Sono molto più efficaci Perché? Perché c'è la testimonianza C'è la Come dire Il sacerdote santo Rende presente Cristo E quindi Tocca il cuore Delle persone Il curato Daz Iniziò subito Quest'umile Paziente Lavoro Di armonizzare La sua vita Dei ministro E La santità Del ministero A lui affidato Decidendo Di abitare Perfino materialmente Nella sua chiesa parrocchiale E Quello tanto Scorrava la giornata In chiesa Appena Arrivato E gli scelse La chiesa Sua dimora Entrava in chiesa Prima dell'aurora E non usciva Che dopo L'angelus Della sera Da dove Si doveva cercarlo Quando si era Si aveva bisogno Di lui Si legge Nella prima biografia Io sono andato A Daz E sono stato Una giornata intera Per analizzare tutto E poi Ho raccontato Del mio libro Pellegrino Quattro ruote Come lui Aveva organizzato La chiesa Con un campo Di battaglia E' un campo Di battaglia Dove Che il penitente Doveva fare Fino ad arrivare A confessionare E' una cosa Incredibile Meravigliosa L'egenerazione Devota Del più A geografo Non deve far Trascurare Il fatto Che il santo curato Seppe anche Abitare Attivamente In tutti i territori Della sua parrocchia Visitava Sistematicamente Gli armati E le famiglie Organizzava Missioni popolari E feste patronali Raccoglieva Ed amministrava Denaro Per le sue Opere di carità E missione Era anche un uomo pratico E realizzativo Abbelliva la sua chiesa E la dotava Di arredi sacri Si occupava Delle orfanelle E della providenza E un istituto Da lui fondato E della loro educazione Si interessava Dall'istruzione Dei bambini Fondava Con fratelli E chiamava I laici A collaborare con lui Quindi Era un sacerdote Diciamo Che Convoceva i fedeli Poi Realizzava anche Molte opere Di carattere Religioso Sociale E Quindi La completezza Del suo ministero Il suo esempio Mi induce Ad evidenziare Gli spazi Di collaborazione Che è doveroso Estendere Sempre più Ai fedeli laici Con i quali I presbiteri Formano L'unico Popolo sacerdotale E in mezzo I quali In virtù Del charterdozio Ministeriale Si trovano Per condurre Tutti all'unità Nella carità Amandosi L'uno L'altro Con la carità Fraterna Prevenendosi A vicenda Nella deferenza Cioè In poche parole E' anche Un grande esempio Di coinvolgimento Del laicato Nell'azione Pastorale E' da ricordare In questo contesto Il caloroso invito Con il quale Il concilio Vaticano II Incoraggia i presbiteri A riconoscere E promuovere Sinceramente La dignità Dei laici Nonché Il loro ruolo Specifico Nell'ambito Della missione Della chiesa Siamo pronti Ad ascoltare Il parè Dei laici Dice il concilio Considerando Con l'interesse Fraterno Le loro aspirazioni E giovandosi Della loro esperienza E competenza Nei diversi campi Dell'attività umana In modo tale Poter insieme Riconoscere I segni Dei tempi C'è Un sacerdote Un sacerdote Diciamo Di rilievo Attira Attira I laici Che si mettono Volentieri Diciamo Così Si propongono Volentieri Come collaboratori Della sua Azione Sacerdotale Ai suoi parrocchiani Il santo Curato D'Ars Insenava Soprattutto Con la Testimolanza Dalla vita Dal suo Esempio I fedeli Imparavano A pregare Sostando Volentieri Davanti Al tabernacolo Per una Visita A Gesù Eucaristico Non c'è Bisogna Di imparare Molto Per ben Pregare Spiega A loro Il curato Si sa Che Gesù E' là Nel tabernacolo Apriamoli Il nostro cuore Elegriamoci Della sua Santa presenza E questa La migliore Preghiera Esoltava Venite Alla comunione Fratelli miei Venite Da Gesù Venite A vivere Venite A vivere Di Lui Per poter Vivere Con Lui È vero E' vero Che non Ne siete Deni Ma Ne avete Bisogno Tale Educazione Dei fedeli Alla presenza Dell'Eucaristia E alla prima Comunione Acquistava Un'efficacia Particolarissima Quando i fedeli Lo vedevano Celebrare Il santo Sacrificio Dalla Messa Che vi Assisteva Diceva Che non era Possibile Trovare Una figura Che meglio Esprimesse L'adorazione Contemprava L'ostia Amorosamente Tutte le buone Opere Riunite Non ne Equivalgono Al sacrificio Dalla Messa Perché quelle Sono opere Di uomini Mentre la Santa Messa È opera Di Dio Diceva Era convinto Che dalla Messa Dipendesse Tutto il Fervore Della vita D'un prete La causa Della rilassatezza Della Caterdote Diceva E che non Fa attenzione Alla Messa Mio Dio Com'è da Compatire Un prete Che celebra Come se Facesse Una cosa Ordinaria E gli aveva Preso L'abitudine Di offrire Sempre Celebrando Anche Il sacrificio Della propria Vita Cioè Insieme Alla Messa Insieme A Cristo Offriva Se stesso Il sacrificio Della propria Vita Come fa bene Un prete Ad offrirsi A Dio In sacrificio Tutte le mattine Allora Non c'era La Messa Serale Questa Immedesimazione Personale A sacrificio Della croce Lo conduceva Con un solo Movimento Interiore Dall'altare Confessionale Altare Confessionale I due luoghi Della Santa Battaglia I sacerdoti Non dovrebbero Mai rassegnarsi A vedere I deserti I loro Confessionali Dice Benevento XVI Nel limitarsi A constatare La disaffezione Dei fedeli Nei riguardi Di questo sacramento Al tempo Del santo curato In Francia La confessione Non era Né più facile Né più frequente Che i nostri giorni Dato che La tormenta Dalla rivoluzione Aveva soffocato A lungo La pratica religiosa Ma ricercò In ogni modo Con la predicazione E con il consiglio Persuasivo Di far riscoprire I suoi parrocchiani Il significato E la bellezza Dalla penitenza Sacramentale Mostrandola Come un'esigenza Intima Della presenza Eucaristica Seppe così fare Seppe così dare Il via A un circolo Vintuoso Con le lunghe Permanenze In chiesa Davanti al tabernacolo Fece sì Che i fedeli Cominciassero A debitarlo Recandosi Per visitare Gesù E fossero Al tempo stesso Sicuri Di trovarvi Il loro paroco Disponibile All'ascolto E al perdono In seguito Fu la folla Crescente Dei penitenti Proveniente Da tutta la Francia A trattenerlo Nel confessionale Fino a 16 ore Al giorno Ci diceva allora Che As E' diventata I grandi Ospedali Delle anime La grazia Che Egli Otteneva Per fare Per la conversione Dei pecatori Era sì forte Che Es Andava a cercarli Senza lasciar loro Un momento di tregua Dice il primo biografo Cioè è chiaro Che era la grazia Di Cristo Che Attirava Le anime A Ars Il santo curato Non la pensava Diversamente Quando diceva Non è il peccatore Che ritorna a Dio Per domandargli perdono Ma è Dio stesso Che corre dietro Al peccatore E lo fa tornare A lui Questo buon salvatore Così colmo d'amore Che cerca Lappertutto Cioè E' lo spirito santo Il primo missionario Che va a cercare Le anime Tutti noi sacerdoti Dovremmo sentire Che ci riguardano Personalmente Queste cose Quelle parole Che li metteva In bocca a Cristo Incaricherò I miei ministri Di annunciare Ai peccatori Che sono sempre Pronto a riceverli Che la mia misericordia E' infinita Da santo curato D'As Noi sacerdoti Possiamo imparare Non solo Una inesauribile fiducia Nel sacramento Dalla penitenza Che ci spinga A rimettere Al centro Dalle nostre Preoccupazioni Pastorali Ma anche Il metodo Del dialogo Di salvezza Che in esso Si deve svolgere I cuatodas Avevano una maniera Diversa Di atteggiarsi Con i vari penitenti Chi veniva Su confessionale Accratto Da un intimo E umile bisogno Del perdono di Dio Trovava in lui L'incoraggiamento Ad immergersi Nel torrente Della divina misericordia Che trascina via Tutto Nel suo impeto Era quindi Era Un sacerdote Esigente Ma che portava Le anime A aver fiducia La divina misericordia E se qualcuno Era afflitto Al pensiero Della propria Debolezza E incostanza Timoroso Di future ricadute Il curato Gli rivelava Il segreto Di Dio Con un'espressione Di toccante bellezza Il buon Dio Sa tutto Prima ancora Che voi Vi confessiate Sa già Che peccherete Ancora e tuttavia Vi perdona Come grande L'amore del nostro Dio Che si spinge Fino a dimenticare Volontariamente L'avvenire Pur di perdonarci Chiaro che noi Dobbiamo proporci Di non pecare più Per l'avvenire Però sappiamo Che la debolezza Umana Ha bisogno Di tempo Per rafforzarsi A chi invece Si accusava In maniera Tiepida E quasi Indifferente Offriva Attraverso Le sue stesse Lacrime La seria E sofferta Evidenza Di quanto L'atteggiamento Fosse abbonnevole Piango Perché voi Non piangete Diceva Se almeno Il Signore Non fosse così Buono Ma è così Buono Bisogna D'essere Barbari Dice A comportarsi Così davanti A un padre Così buono Cioè Le anime Che si illudono Approfittando Dalla bontà Di Dio E della sua misericordia Faceva nascere Il pentimento Nel cuore Dei tiepidi Costringendoli A vedere Con i propri occhi La sofferenza Di Dio Per i peccati Quasi incarnata Nel volto Del prete Che li confessava A chi invece Si presentava Giardiniseroso E capace Di una più profonda Vita spirituale Spalancava Le profondità Dell'amore Spiegando L'indicibile Bellezza Di poter Vivere Uniti a Dio E alla sua presenza Tutto sotto gli occhi Di Dio Diceva Tutto con Dio Tutto per piacere A Dio Come bello E insegnava Allora a pregare Mio Dio Fammi la grazia Di amarti Tanto quanto È possibile Che io ti ami Certo che È un tesoro Inestimabile La vita È un tesoro Del santo curato Daz per noi sacerdoti Il curato Daz Nel suo tempo Ha saputo Trasformare Il cuore E la vita Di tante persone Perché è riuscito A far loro Percepire L'amore misericordioso Del Signore Certo Bisogna portarli A contemplare La croce Dove 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 si manifesta Fino a che punto Siamo stati amati Urge Dice Benevento XVI Anche nel nostro tempo Un simile annuncio È una testimonianza Della verità Dell'amore Deus Caritas est Dio e amore Con la parola E con i sacramenti Del suo Gesù Giovanni Maria Vianney Sapeva edificare Il suo popolo Anche se spesso Fremeva Convinto Dalla sua personale Inadeguatezza Al punto Da desiderare Più volte Di sottrarsi Alla responsabilità Del ministero parrocchiale Di cui si sentiva indegno Cercava la fuga Perché si sentiva Uno strumento Non all'altezza Tuttavia Poi Con esemplare obbedienza Restò sempre Al suo posto Perché lo divorava La passione apostolica Per la salvezza Delle anime Cercava di aderire Totalmente Alla propria vocazione E missione Mediante Un'ascesi severa La grande sventura Per noi parroci Deplorava il santo E che l'anima Si intorpidisce Ed intendeva Con questo Un pericoloso Assuefarsi Del pastore Allo stato Di peccato Ed indifferenza In cui Vivono Tante sue pecorelle Gli teneva a freno Egli teneva a freno Il corpo Con veglie E digiuni Per evitare Che opponesse Resistenza Alla sua Anima sacerdotale Insomma La penitenza Caramici L'ascisi personale E' una componente Del cammino Di santità E non rifugiva Dal mortificare Se stesso A bene Delle anime Che gli erano affidate E per contribuire All'espiazione Vi tanti peccati Ascoltati In confessionale Spiegava Ad un confratello Sacerdote Vi dirò Qual è la mia ricetta Do ai peccatori Una penitenza Piccola E il resto Lo faccio io Al loro posto Al di là Delle concrete penitenze A cui il curato D'Arsi Si sottoponeva Resta comunque Valido per tutti Il nucleo Del suo insegnamento Cioè Dice Benevento XVI Le anime Costano il sangue Di Gesù E i sacerdoti Non può dedicarsi Alla loro salvezza Se rifiuta Di partecipare Personalmente Al caro prezzo Dalla redenzione Cioè Lo stesso sacerdote Deve fare penitenza Per i peccati Dei suoi parrocchiani Nel mondo d'oggi Come nei difficili tempi Del curato D'Arsi Occorre che i presbiteri Dice Benevento XVI Nella loro vita E azione Si distinguono Per una forte Testimonianza evangelica Aggiustamente Osservato Paolo VI L'uomo contemporaneo Ascolta più volentieri I testimoni Che i maestri O se ascolti i maestri Lo fa perché sono Dei testimoni Perché non nasca Un vuoto esistenziale In noi E non sia compromessa L'efficacia Del nostro ministero O quelle che ci interroghiamo Sempre di nuovo Siamo veramente Pervasi Dalla parola di Dio E' vera che Essa è il nutrimento Di cui viviamo Più di quanto lo siano Il pane E le cose Di questo mondo La conosciamo davvero La parola di Dio La amiamo Ci occupiamo Interiormente Di questa parola Al punto che Essa Realmente Die impronta La nostra vita E forme Il nostro pensiero Si domanda Paolo VI Come Gesù Chiamò i dodici Perché stessero con lui E solo dopo Mi dimandò A predicare Così anche noi Ai nostri giorni I sacerdoti Sono chiamati Ad asseminare Quel nuovo stile di vita Che è stato inaugurato Dal signore Gesù Ed è stato fatto Proprio dagli apostoli Cioè Gesù Ha Proposto Il suo stile di vita Gli apostoli E nel benissimo tempo Gli ha resi capaci Di annunciare La parola di Dio Fu proprio L'adesione Senza riserve A questo nuovo stile di vita Cioè quello evangelico Che caratterizzò L'impegno ministeriale Del curato d'Arse Il Papa Giovanni XXIII Nella lettera enciclia Sacerdoti Nostra primordia Cioè i sacerdoti Sono La nostra Diciamo Il nostro tesoro Diciamo Pubblicata nel 1959 Primo centenario Della morte San Giovanni Vianney Ne presentava La visione mia Ascetica Con particolare riferimento A tre consigli evangelici Giudicati Necessari Anche per i presbiteri Dunque vediamo Dunque In questa enciclica Di Di Benedetto Di Giovanni XXIII Come il santo curato d'Arse Realizzava Nella sua vita Il voto di povertà Castità E obbedienza E questa è la riflessione Di Giovanni XXIII Al riguardo Cioè di Giovanni Papa Giovanni Al riguardo Se per raggiungere Questa santità di vita La pratica dei consigli evangelici Non è imposta al sacerdote In virtù dello stato clericale Essa si presenta Non di meno a lui Come a tutti i discepoli Del Signore Come la via regolare Di santificazione cristiana Cioè la povertà Castità E obbedienza Che abbiano fatto i voti Non l'abbiano fatti E Diciamo Il cammino di santità Che tutti devono vivere E particolarmente I sacerdoti Il curato d'as Seppe vivere i consigli evangelici Nella modalità Adatte Alle sue condizioni Di presbitero I consigli evangelici Sono quelli della povertà Castità E obbedienza La sua povertà Infatti Non fu quella D'un religioso O di un monaco Ma quella richiesta Ad un prete Pur maleggiando Molto denaro Dato che i pellegrini Più facoltosi Non mancavano Di interessarsi Le sue opere di carità Egli sapeva Che tutto era donato Alla sua chiesa Ai suoi poveri Ai suoi offanelli Alle ragazze Dalla sua provvidenza Provvidenza Era la casa che ha istituito Alle sue famiglie Più disagiate Perciò Egli era ricco Per dare agli altri Ed era molto povero Per se stesso Piegava Il mio segreto È Semplice Dare tutto E non conservare niente Quando si trovava Con le mani Vuote Ai poveri Che si rivolgevano A lui Diceva contento Oggi Sono povero come voi Sono uno dei vostri Così alla fine Della vita Potrei affermare Con assoluta serenità Non ho più niente Il buon Dio ora Può chiamarmi Quando vuole Anche la sua castità Era quella richiesta A un prete Per il suo ministero Si può dire Che era la castità Conveniente A chi deve toccare Abitualmente L'Eucaristia E abitualmente La guarda Con tutto Il trasporto Del cuore E con lo stesso Trasporto La dona I suoi fedeli Dicevano di lui Che la castità Brillava Nel suo sguardo E i fedeli Se ne accorgevano Quando Egli si volgeva Guardare il tabernacolo Con gli occhi Di un innamorato Anche l'obbedienza De San Giovanni Maria Vianney Fu tutta Incarnata Nella sofferta Adesione Alle quotidiane Esigenze Del suo ministero E noto Quanto Egli fosse Tormentato Dal pensiero Della propria Inadeguatezza Al ministero parrocchiale Ed ha desiderio Di fuggire E a piangere La sua povera vita In solitudine Solo l'obbedienza E la passione Per le anime Riuscivano a convincere A restare al suo posto C'è il vesco Ciò di imporre Perché lui voleva Ritirarsi In un luogo solitario A pregare E basta E ad attendere La sua anima Poi ovviamente Obediva sempre A se stesso E i suoi fedeli Dispiegava Non ci sono due maniere Buone Di servire Dio C'è una sola Servirlo Come lui vuole Essere servito La regola d'oro Per una vita obbediente Gli sembrava questa Fare solo ciò Che può essere offerto Al buon Dio Nel contesto Della spiritualità Alimentata Dalla pratica Dei consigli evangelici Continua sempre Papa Giovanni Mi è caro Rivolgere ai sacerdoti No Questo è Il brevetto sedicesimo Mi è caro Rivolgere In quest'anno L'ho dedicato Un particolare invito A saper cogliere La nuova primavera Che lo Spirito Santo Sta suscitando Ai nostri giorni Nella Chiesa Non per ultimo Attraverso i movimenti Ecclesiali E le nuove comunità Lo Spirito Santo Nei suoi donne Multiforme E li soffia Dove vuole Lo fa in modo Inaspettato In luoghi Inaspettati E in forme Prima non immaginate Ma ci dimostra Che anche Egli opera In vista Dell'unico corpo E nell'unità Dell'unico Spirito A questo proposito Va l'indicazione Del decreto Presbiterum Ordinis Nel concilio Che dice Sapendo discendere Quali spiriti Abbiamo origine Da Dio Sapendo discendere Quali spiriti Abbiano origine Da Dio I presbiteri Devono scoprire Con senso Di fede I carismi Sia umidi Che eccessi Che sotto Molteplici Forme Sono concessi Ai laici Devono ammettere Con gioia E fomentare Con diligenza Tali doni Che spingono Non pochi A una vita spirituale Più elevata Possono giovare Non solo Per i fedeli Laici Ma per tutti Gli stessi ministri Della conio Fra ministri Ordinati E carismi Infatti Può scaturire Un valido impulso Per un rinnovato Impegno Dalla chiesa Nell'annuncio Della testimonianza Della vangelo Della speranza Della carità In ogni angolo Del mondo E' vero Ci sono molti I saggiotti Sono molti di meno Ma se fossero Come quelli Che Che devono essere E sull'esempio Il santo curato D'Ars Questa carenza Non sarebbe Una tragedia Perché Sarebbero persone Tali Da attrarre a sé Tante persone Laiche Che si impegnano A fondo A cooperare Col sacerdote Andiamo verso Andiamo verso la fine Cari amici Cari sacerdoti La celebrazione Carriera piena di meriti La Vergine Immacolata Era apparsa In un'altra regione Della Francia Ad una fanciulla Umile e pura Per trasmettere Un messaggio Di preghiere Di penitenza Di cui è ben note Da un secolo L'immensa risonanza Spirituale In realtà La vita Del santo sacerdote Di cui celebramo Il ricordo Era in anticipo Una illustrazione Vivente Delle grandi Verità sopranaturali Insegnate Alla vigente Di Massabien C'è benissimo Questo legame Fra il santo curato D'Ars E Lourdes Erano contemporanei E gli stesso Aveva per dimorato Concezione Della Santissima Vergine Maria Una vivissima devozione Lui che nel 1836 Aveva consacrato La sua parrocchia Maria concepita Senza peccato E doveva raccogliere Con tanta fede E gioia La definizione dogmatica Del 1854 Il santo curato Ricordava sempre I suoi fedeli Che Gesù Cristo Dopo averci dato Tutto Quello che ci poteva dare Vuole ancora Farci eredi Di quanto Egli ha di più prezioso Vale dire Farci eredi Della sua santa madre E conclude Il brevetto sedicesimo Alla Vergine Santissima Affido Questo anno sacerdotale Chiedendo Di suscitare Nell'animo Di ogni presbitero Un generoso Rilancio Di quegli ideali Di totale donazione A Cristo E alla Chiesa Che ispirarono Il pensiero E le azioni Del santo curato D'Ars Con la sua Fervente vita Di preghiera E il suo appesionato Amore a Gesù Crucifisso Giovanni Maria Via Nei Alimentò La sua quotidiana Donazione Senza riserve A Dio E alla Chiesa Posse il suo esempio Suscitare Nei sacerdoti Con la testimonianza Di unità Con il vescovo Fra loro E con i laici Che oggi Come sempre È tanto necessaria Nonostante il male Che vi è nel mondo Risola sempre attuale La parola di Cristo E i suoi apostoli Nel cenacolo Nel mondo Avrete tribolazioni Ma abbiate coraggio Io Ho vinto il mondo La fede Nel maestro divino Ci dia la forza Per guardare Con fiducia Al futuro Cari sacerdoti Conclude Benevento XVI Cristo Conta su di voi Sull'esempio Del santo curato Nas Lasciatevi Conquistare Da lui E sarete anche voi Nel mondo di oggi Messaggeri Di speranza Di riconciliazione E di pace Con la mia benedizione Da Vaticano 16 giugno 2009 Benedetto XVI Ecco cari amici Immagino che Poi sia stata Un po' faticosa Però io Non posso che ringraziare Non posso che ringraziare Con la signora Che mi ha dato questa idea Perché io leggendo Io stesso leggendo Mi sono Come dire Mi sono commosso Mi sono nutrito Mi sono confermato Mi sono Come dire Incoraggiato Vorrei dire Io non so Quanti sacerdoti Abbiamo potuto Ascoltare Questa trasmissione Comunque Troverete anche Un video Intitolato Il santo curato d'Ars Nella serie di Nella serie di video Su youtube Intitolata Il malacco della fede Questo perché Possiate anche scaricarlo Fare dono Il vostro parroco O I sacerdoti Che conoscete L'abbiamo messo Tutto questo testo Anche nel nostro sito Internet Era Devo dirvi Cari amici Guardate che La crisi Della vocazione Sacerdotale In realtà È una crisi Molto È una crisi Che riguarda La crisi Dei fedeli La crisi Di fede Dei fedeli La crisi Di fede Dei fedeli La crisi Delle famiglie Cristiane Che non orientano Più i figli A sacerdote La figlia La crisi Di sacerdoti Stessi Perché molti Si perdono Per strada Perché non Addingono Le fonti Della grazia Io posso dare La mia testimonianza Che arrivo Sul traguasso L'addito Ad arrivo Dalla mia vita Spero che sia Ancora Lunga Perché mi piace Lavorare per Dio Non sono attaccato Alla vita Però mi piace Lavorare per Dio Per salvare le anime Per cui Mi auguro Che duri Ancora lungo Insomma Però La vita Di sacerdote Per quanto sia Una vita impegnativa Di sacrificio Di dedizione È una vita felice È una vita felice Perché siamo Nel piano di Dio Nel piano della redenzione Nel piano della salvezza Delle anime Perché il sacerdote Rappresenta Gesù Cristo Il sacerdote È il buon pastore Ma un sacerdote Che è un sacerdote Ha Le anime Che corrono Dietro a lui Da tutte le parti Un sacerdote Che è un sacerdote Non ha la chiesa vuota Noi abbiamo alcuni esempi Anche qui Dalle vicinanze Di chiese strapiene Anche nei giorni feriali Perché il sacerdote È un sacerdote Sullo stile Del santo curato d'Arsa E così è Cari amici Ma nel medesimo tempo Voi stessi I genitori Voi stessi Laici Voi stessi Abbiate una grande Una grande concezione Del sacerdote E della vocazione Sacerdotale Perché solamente così Unito alla preghiera In queste comunità Di pecorelli Con il loro pastore Che escono poi Le vocazioni sacerdotali Che non sono frutto Di propaganda Sono frutto Di Come dire Di Testimonianza vissuta In molti Si fanno sacerdoti Perché Come ha detto Benevento Celisio Per il loro parroco Anch'io Con il mio parroco Che avevo Ho concepito La vocazione sacerdotale Questo per dire Come Dobbiamo andare Conto corrente E tornare Alle sorgenti Della fede Che poi Le sorgenti Della fede Di Gesù Cristo Figlio di Dio Reventore del mondo L'almanacco della fede Di padre Livio L'almanacco della fede L'almanacco della fede L'almanacco della fede